Ciao, sono la dottoressa Katia Lalli e oggi ti voglio parlare del carciofo. Ottimo ortaggio, dal sapore delicatissimo, ma che ha numerose proprietà benefiche per l'organismo. Prima di tutto è un ortaggio che contiene pochissime calorie, quindi viene utilizzato spessissimo nei regimi alimentari stretti. Inoltre contiene numerose e ricco di fibre, quindi va a stimolare la peristalsi intestinale, a migliorare il transito intestinale. È un'ottima fonte di oligoelementi perché contiene il calcio, il fosforo, il magnesio, il potassio. Inoltre ha proprietà diuretiche, quindi viene utilizzato anche per chi ha problemi quali ipertensione, cellulite, diabete. Inoltre va a stimolare anche il metabolismo epatico, quindi ha una proprietà anche depurative del fegato e anche dei reni. Infatti va anche a ridurre i calcoli epatici e renali. In ultimo contiene una grande quantità di bardana, quindi viene utilizzata anche per purificare la pelle, soprattutto in chi ha pelle grassa o addirittura acne. Numerose sono le ricette che potresti preparare con i carciofi, il carciofo per esempio può essere utilizzato anche crudo, un ottimo ortaggio che puoi utilizzarlo crudo, basta ripulire completamente il carciofo, lasciare soltanto il cuore tenerissimo, tagliarlo a fettine, poi andarlo a condire con olio, limone e sale ed eventualmente pepe se lo gradisci, aggiungi delle scaglie di parmigiano ed un'ottima insalata che puoi offrire anche eventualmente ai tuoi ospiti. E inoltre ricordati che alla farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere.